Qui dove il mare luccica e tira forte il vento Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Soriente Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto Osteria Atri in compagnia della cliente la signora Manuela Manuela lei ha appena terminato insieme al suo compagno Massimo Vi avete appena terminato di mangiare qui all'osteria come vi è sembrato alla loro pietanza? Allora siamo qui per la prima volta ed effettivamente abbiamo gradito moltissimo Una cucina veramente tradizionale, buona, saporita insomma come la volevamo? Ecco questo è il nostro piacere quindi vi aspettiamo ancora con noi Volevo fare i complimenti allo chef perché ha cucinato benissimo veramente eccellente Siamo presso l'Osteria Atri al centro storico in compagnia di Guido Guido dici un attimino tu sei ormai un nuovo nato nel settore gastronomico Quindi io so che tu hai aperto da poco, da quanto tempo? Da settembre Però vedo che ti seguono già dei clienti insomma abbiamo fatto un'intervista dei clienti Che hanno assaggiato e hanno apprezzato tanto quello che avete cucinato Cosa hai preparato ai tuoi clienti Guido? Gnocchi con i frutti di mare e baccalaconi in pesto Buonissimo, allora è invece per noi cosa ci prepari? Per i clienti che verranno ancora ad assaggiare le tue pietanze Qual è la vostra specialità? Ora facciamo qualcosa di mare, un linguino bello andente con gamberi e pomodorini Tanto amore e tanta professionalità Quindi che dirvi, veniteci a trovare Adesso vi lasciamo alle immagini insieme allo chef, grazie La città è brutta cianella Ma rispiace sulla mente Che ha l'orgoglio che sta accenta Su mortifico ogni giorno Buona mano che fu tienta Che non tena una coscienza E non tena una rispetto Come fa la figlia suona Quando a sera rindolietta Rindolietta, rindolietta Rindolietta, rindolietta Quando a sera rindolietta Rindolietta, rindolietta Rindolietta, rindolietta Quando a sera rindolietta Ah, cosa porta a marcio al dì Sembra che non tiene la fretta Per se cinga da madino Quando traffico permette Che ha permesso tutto coso No, perché ti notariz Ma perché ci siamo